Ciao Gossip News, un abbraccio! Io partirei da un'osservazione, innanzitutto che sei giovanissima, quanti anni hai? 19, 19 anni sì. E sei già al secondo lavoro? È il secondo lavoro, ho cominciato col bene e il male e adesso è capitato questo lavoro e devo dire che sono stata, non so, forse miracolata, ho avuto tanta fortuna. Ci ho sempre messo moltissimo impegno, molta dedizione e poi il destino mi ha un po' aiutata. Tu ci credi nel destino? Sì, ci credo nel destino, sì. Quindi secondo te oltre al talento serve anche tanta fortuna? Sì, penso proprio di sì, perché comunque purtroppo ci sono tante persone che hanno il talento e che magari non riescono per X fattori, non si sa. E un po' di destino anche c'entra, sì.